Allora, riconoscerete una postazione diversa e magari anche un suono differente, ma perché? In questi giorni sono venuto a casa della mia ragazza per trascorrere qualche giorno insieme a lei non portandomi dietro videocamera né tantomeno microfono, pensando che non avrei dovuto registrare alcun video, visto che le recensioni le ho già girate la scorsa settimana e stanno uscendo tranquillamente su YouTube quotidianamente perché sono in programma. Ma si sa, esco di casa e c'è il terremoto in casa di sì. Mi sembra di essere tornato a quella volta in cui mi trovavo in macchina e annunciarono il ritorno di Spider-Man nell'MCU e quindi feci un video, ricorderete, a camicia mezza aperta con la mia reazione fulminante piena di gioia. Stavolta invece, ma, c'è un po' di titubanza. Per chi non lo sapesse, è notizia di qualche giorno fa, seppur non ancora ufficiale, perché di rumor si sta parlando, però un rumor sganciato da The Hollywood Reporter, una delle testate più importanti, ma soprattutto serie, che si possano trovare. Quindi in questo nuovo scoop si parlerebbe di un cambiamento totale in casa di sì. Sapevate senz'altro che c'è stata una differenza di gestione perché siamo passati dalla dirigenza amada a quella composta dal duo Peter Safran, il produttore e il regista grandioso James Gunn. Sicuramente ci potevamo aspettare che avremmo esplorato nuovi lidi assieme a queste due importanti figure, però non che tutto ciò che c'è stato fino ad adesso venisse messo in discussione. Saprete benissimo che io sono sempre stato un estimatore del DC Extended Universe, chi mi segue su YouTube, beh, avrà visto le mie recensioni. L'operato di Snyder l'ho apprezzato, ho finalmente visto la Snyder Cut dopo anni in cui c'era questa voglia da parte degli estimatori di portare avanti la propria battaglia su Twitter a suon di hashtag. Solo che cosa è successo? Sarà che c'è stato un cambiamento in casa di sì con la dirigenza, però questo scoop rivela che innanzitutto si potrebbe andare incontro ad una tabula rasa totale, perché Wonder Woman 3 è stato cancellato dai piani. Quindi il futuro film sull'Amazzone interpretata da Gal Gadot, sempre diretto da Patty Jenkins, dovrebbe aver ricevuto il semaforo rosso, quindi si deve fermare. È stata consegnata la sceneggiatura a Safran e a James Gunn, però entrambi non hanno detto che fosse brutta o altro, semplicemente hanno risposto non fa parte dei piani che abbiamo immaginato per il futuro di questo franchise. Allo stesso tempo però sembrerebbe anche che il ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman sia stato cancellato. E anche qua viene da ridere, perché se pensiamo che nemmeno qualche mese fa è uscito nelle sale il bruttissimo Black Adam con Dwayne Johnson, diretto da James Colle Serra, dove nella post-credit si palesava dopo tanto vociferare Henry Cavill. Pensare che questo povero attore ritornante nelle vesti di Superman sia stato subito trombato, poverino, fa un po' ridere come cosa. È vero che Black Adam faccia parte di una vecchia dirigenza, quindi del pensiero di Amada. Però nemmeno a farlo apposta esce quel film in cui Dwayne Johnson, perché poi The Rock, che io adoro, che io rispetto, si è un po' comportato come il bambino che fa la voce grossa, che si sente superiore fino a che non arriva il babba a dargli una pedata in culo e a rimetterla a sedere, perché praticamente la faccenda è stata questa, è arrivato e con potenza, no? Ha detto il futuro del DC Extended Universe sarà totalmente rinnovato, ma nel senso che rivedrete Henry Cavill che tanto avete desiderato e ci sarà lo scontro con Black Adam e piripì e piripà e alla fine ha fatto la voce grossa. Però James Gunn in un battito di ciglia insieme a Peter Safran l'hanno subito rimesso a sedere e a me viene da ridere perché, come vi stavo dicendo, io ho apprezzato l'operato di Snyder. Mi è piaciuto il primo Wonder Woman e addirittura il tanto criticato secondo. Avrei veramente voluto vedere il terzo capitolo così come mi sarebbe piaciuta una continuazione dello Snyderverse, però faccio un attimo, mente locale, rifletto e dico. Avrebbe senso? No, perché posso essere un estimatore, un fan quanto voglio, ma i risultati parlano chiaro. Già Black Adam è stato un flop colossale. Il film che dovrebbe rilanciare Henry Cavill come Superman è stato un flop totale. Per di più sappiamo ciò che c'è stato prima. I malcontenti per Batman v Superman, i malcontenti per Wonder Woman 1984, tutti i problemi relativi all'universo anche per quanto riguarda la realizzazione di certe pellicole. The Flash, io penso che quel film lì abbia avuto più modifiche, non saprei nemmeno io quante, che una macchina ai prossimi mondiali di rally. Cioè veramente è un film che è partito da un'idea, si è sviluppato in altro modo, ad un certo punto avrebbe dovuto presentare un altro personaggio ritornante, cioè il Batman di Michael Keaton, però poi c'è anche il Batman di Ben Affleck. Allo stesso tempo si ritoglie il Batman di Michael Keaton, resta il Batman di Ben Affleck, ma adesso sembrerebbe sempre grazie allo scoop di Hollywood Reporter che siano state cancellate tutte le scene girate con Batman di Ben Affleck e ovviamente che siano stati eliminati tutti quei momenti in cui sarebbe dovuto comparire Henry Cavill che ha fatto in tempo a rimettersi il vestito per un'ultima volta proprio per non fargli prendere polvere però, cioè è il mostro di Frankenstein The Flash di Andy Muschietti. Per di più, allo stesso tempo sappiamo quindi che questo reset totale che dovrebbe esserci non andrà però a compromettere quelle pellicole che ormai sono finite e dovranno uscire. Da un lato ci si può aspettare di tutto, perché pensate al film su Batgirl, già pronto da completare in fase di post-produzione, poi pum pum pum, cancellato. Altro film dove sarebbe dovuto comparire il Batman di Keaton. Cioè già per un vergine di tale argomento, già lui potrebbe capire quanto questo universo sia portato avanti a stenti, sia discutibile. Poi i singoli film possono piacere oppure no, però se pensiamo alla controparte marvelliana, al Marvel Cinematic Universe c'è un'idea alla base. Kevin Feige, i produttori, il regime che c'è sotto è molto più ben sviluppato, è pensato. Lasciate stare che poi con il multiverso potrebbero andare anche loro incontro a delle cacche da appestare, però il DC Extended Universe ha sempre cercato di ripetere la formula della Marvel riuscendoci malamente. Quindi io, che in primis apprezzo tante cose gradirei un reset? Mi farebbe certamente dispiacere perché non rivedere più Wonder Woman, non rivedere più il Batman di Affleck a cui avrebbero potuto finalmente dare dignità con una conclusione anche delle storie iniziate. Pensare di non rivedere più la Harley Quinn di Margot Robbie, seppur abbia detestato Burst of Prey, non mi sia piaciuto per niente, ma allo stesso tempo ho amato The Suicide Squad dello stesso James Gunn. Un reset lo vorrei, solo che adesso, cioè, queste notizie sono state così veicolate attraverso questo importante scoop quando, come vi stavo dicendo, i film già completati dovranno uscire. Io vi ricordo che nella tabella di uscite del 2023 abbiamo il 17 marzo 2023, data di uscita americana, Shazam, Furia degli Dei. Abbiamo per il 16 giugno del 2023 il tanto chiacchierato, modificato The Flash, se poi ci soffermassimo su tutto ciò che ha fatto Ezra Miller tra bambine rapite, Ezra Miller non si sa cosa sia passato per la mente di quell'attore, però anche lì immaginatevi presentare un film con un attore che già con un ipotetico The Flash 2 verrebbe recastato, perché dopo tutto quello che ha fatto, che lo tengano in considerazione, mi sembrerebbe assurdo per un eventuale seguito. Quindi capite l'importanza del DC Extended Universe, The Flash, non solo le mille modifiche, ma anche la possibilità che l'attore cambi subito con un sequel. Poi, Blue Beetle il 18 agosto del 2023, io sono ignorante in campo fumettistico, quindi non so minimamente di cosa tratti Blue Beetle, cioè pensavo fosse uno dei Beetle tatuato di blu dipinto, però non penso. Poi il 25 dicembre del 2023, Aquaman e Il Regno Perduto. Questi film usciranno, che vi piaccia o no, usciranno. E io sono anche curioso di vederli, perché quando The Rock ha annunciato il ritorno di Pinco Pallino, di Mario Rossi, del Signor X e dei Pokémon, ero anche curioso di vedere se questa volta avrebbero avuto le idee più chiare. Avendo apprezzato il Superman di Kevil, il Batman di Ben Affleck, sono uno dei pochi, però io, lo sapete, sono sempre stato sincero in questo, dicevo dai, magari stavolta hanno le idee chiare. Così non è stato. Quindi vi domando, capite, anche per voi è stato un po' assurdo far sì che questi rumor venissero rilasciati quando ancora certi film dovranno uscire, perché è vero che il postino di, così, trezzo sull'Adda che vuole andare a vedersi un film di supereroi non saprà mai, mentre sta guardando The Flash, che dopo tal film il tutto verrà resettato, ma per chi è un po' più fan, con che voglia si va in sala a vedere dei film conclusivi sapendo già che dopo non ce ne saranno più. Cioè non è come se fosse l'ultimo capitolo di una trilogia, l'ultimo film del Marvel Cinematic Universe, no, noi dovremmo andare in sala ben sapendo che tutto ciò che vedremo in questi film non avrà sbocchi. È una sensazione un po' strana, poi ci mancherebbe, il pubblico non è sempre informato, magari andranno benissimo, me lo auguro, fa sempre piacere quando al box office si incassa anche per gli esercenti. Però effettivamente vedere un film come The Flash che presenta un personaggio sapendo che dopo ci sarà la tabula rasa, la lavagna ripulita, vedere una nuova presentazione di un personaggio mai visto prima come Blue Beetle, vedere il seguito di Aquaman sapendo che quello che sarebbe dovuto essere un film di lancio anche per il Batman di Keaton o di Affleck, allo stesso modo tutto ciò sarebbe dovuto accadere anche in The Flash. Poi porti al niente, magari potrebbe anche far diminuire la voglia alle persone che già di per sé non ne avevano di andare a vedere queste pellicole. Forse era meglio se questi rumor fossero usciti dopo l'uscita nelle sale di queste pellicole che vi ho anticipato, perché se no si ritorna un po' alla questione Fox-Disney. Vi ricordate quando la Disney ha acquisito la Fox e dovevano ancora uscire i film degli X-Men, fra cui X-Men, Dark Phoenix e The New Mutants? Quanto andarono male al box office? Poi con The New Mutants ci si mise anche il Covid di mezzo, però tu non vai a vedere un film sugli X-Men, dico volentieri al 90% dei casi, nel 90% dei casi quando sai che non avrà sbocchi. Cioè vai con un po' di tristezza, è come quando stai vedendo una serie e dici ok uscirà la seconda ma hanno già bloccato la realizzazione della terza, quante volte su Netflix cose simili sono accadute, quindi magari la puoi anche vedere mai dentro quel senso di dispiacere. Quindi la situazione è un po' questa. Per di più non si capisce perché anche il caro James Gunn quando tenta di rispondere fa un po' il vago insieme a Safran. Eh sì, per certe cose è vero, per altre no. Quindi sapete qual è la mia idea? Che dopo tutto questo caos il casino aumenterà perché, ma mi ci gioco tutto, questo reset potrebbe anche andare in porto e per quanto mi dispiace sarebbe la scelta giusta, ma già da un po' di tempo avrebbero dovuto farlo. Ma io sono convinto che i due certi personaggi non li abbandoneranno, perché io non credo che certi personaggi che abbiamo conosciuto nel Fu di Sea Extended Universe appenderanno il mantello al chiodo. Ma già probabilmente Henry Cavill potrebbe interpretare Superman ma senza avere rimandi col passato. Si parlava addirittura invece di un Jason Momoa che avrebbe smesso di interpretare Aquaman e lo avremmo trovato nei panni di Lobo. Io l'unico Lobo che conosco è quello dell'orecchio, quindi non so che personaggio sia, ma staremo a vedere. Oppure John Cena, Peacemaker, la serie non è ancora arrivata in Italia e spero possa prodare. Però se si parla di tabula rasa, la tabula rasa dovrebbe essere totale, non furbescamente. Cioè, sì, alcuni personaggi, quelli che voglio io, li resetto, altri li faccio tornare e magari se sono loro, cioè gli stessi attori, non avranno collegamenti con i loro stessi personaggi interpretati nel filone ormai defunto. Per me si creerebbe un caos totale nella mente dello spettatore più attento. Il pubblico più generalista vede lo stesso personaggio e magari non si accorge nemmeno che ci sia stato un cambiamento. Invece, se si parla di cambiamento, perché questo DC X Ended Universe sta deludendo, e lo dico a mio discapito, perché ripeto, a me piaceva al netto dei suoi difetti, però sta creando malcontento. Allora dovete avere il coraggio di tagliare il tutto, ciò che stavate facendo, e di reiniziare. Come allo stesso tempo continuerà a compartimenti stagni il The Batman di Matt Reeves, il Joker di Todd Phillips, questi film non verranno toccati assolutamente. Quindi ci sarà un Batman che non ha alcun legame con quello che forse presenteranno nella nuova gestione Seyfren, Safran, ora non ricordo come si pronunci, Gunn, ci sarà un Joker che non avrà legami con quello che forse presenteranno in questa nuova gestione, a meno che, è tutto da vedere, non diventi il Batman di Pattinson quello di questa nuova gestione. Da quel che si è capito, nelle prossime settimane ci sarà il comunicato ufficiale. Quindi adesso prendete tutto con le pinze, quel che io ho detto. Solo che non è che queste notizie le abbia diffuse, non lo so, Pierino, Bellino e Carino, l'ha diffuse The Hollywood Reporter, che solitamente è attendibile al 99,9%. Poi ci si poteva anche immaginare che una nuova dirigenza avrebbe apportato delle modifiche. E che mi fa un po' ridere, non vorrei essere nei panni della Warner nel distribuire, nel produrre, nel pompare, nel cercare di pubblicizzare pellicole come Shazam 2, The Flash, Blue Beetle e Aquaman 2, perché, cioè, lo fate ma con la consapevolezza che... Ciao belli! Quindi, voi cosa ne pensate? Perché di certo non c'è nulla, però l'avvicinanza alle ipotesi che vi ho appena descritto, sì, al 100%. Mi fa un po'... Ormai ci resta solo che ridere, perché dobbiamo dispiacerci, io non condivido nemmeno quelli che con i forconi, no, vogliamo lo Snyderverse, vogliamo lo... Anch'io lo volevo, però abbaiono anche i cani e lascio tutto, perché questo mi fa capire che bisogna smettere. Cioè, era per dire che ormai anche i cani abbaiano perché vogliono dire la propria, ma a un certo punto, che siate fan di Snyder, che siate fan di Batman, di Terra 1, Terra 2, Terra 100, o di qualsiasi incarnazione del personaggio, è giusto che quando un universo floppa, si va davanti, si volti pagina, e Black Adam è stata l'ennesima batosta in faccia, l'ennesimo cazzotto nel muso, The Rock sembrava una cassa panca coi vestiti, io adesso vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito, vi chiedo scusa se l'audio non è stato dei migliori, ma ripeto, non avevo portato con me il microfono, però nella sezione commenti fatemi sapere, perché sarei curioso di sapere se per voi il reset sarà totale, oppure se sarà un soft reboot, cosa che io non gradirei assolutamente, perché sennò sarebbe un cercare di copiare un'altra volta la Marvel, cosa che stanno facendo con i vari Daredevil, se rivedremo The Punisher, se rivedremo i personaggi di Daredevil e chi più ne ha, più ne metto, con gli Spider-Man, sono collegati, non sono collegati, quindi ecco, vuoi resettare, lo fai, non che utilizzi The Flash per resettare il tutto, perché anche se utilizzi The Flash per resettare il tutto, per arrivare al reset hai avuto bisogno di un film del DC Extended Universe, quindi il collegamento ci sarebbe. Sono curioso, non ci resta che attendere, non ci resta che vedere, però fatemi sapere la vostra, mi dispiace tanto per Superman di Daredevil, per il Batman di Affleck, ma vabbè, è così e giustamente bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Ciao ciao!